Il Gattopardo Il Gattopardo Il Gattopardo Il Gattopardo Il Gattopardo Perché la scelta di questa mostra? Passione personale o la volontà di rilanciare ancora una volta attraverso l'arte il paese di Cimina? Tutte e due le cose, prima perché nessuno mai si è dedicato a portare avanti l'evento filmico del Gattopardo, poi è chiaro che Cimina non è soltanto Gattopardo, cinema, ma anche cultura, tradizione. Siamo stati felici di poter ospitare questa mostra fotografica sul set del Gattopardo, anche perché in questa occasione peraltro abbiamo esposto anche tutte le traduzioni che postiamo nel Gattopardo, tra cui le lezioni in albo che mi diceva poco fa il professore Lanza, lui non conosceva. L'abbiamo acquistato perché faceva parte del fondo di Umberto Rizzitano, una nota arabista di cui abbiamo acquistato il fondo e che presenteremo il catalogo arabo il 4 dicembre.